Quanto ha performato il mio fondo pensione nel 2021? Quali sono stati i risultati di Allianz Insieme? Che se mi conoscete sapete che è il fondo pensione aperto al quale ho aderito per la mia previdenza complementare. Sono soddisfatto poi di questi risultati? Andremo a rispondere a tutte queste domande in questo nuovo video e diamo il bentornato quindi a questa mini serie che come sapete aggiorniamo una volta ogni sei mesi, a giugno e a dicembre per monitorare quello che è l'andamento del nostro fondo pensione e per avere comunque un occhio di riguardo ai risparmi investiti per la nostra età pensionabile. Ciao bentornato qua su questo canale, se ancora non mi conosci io sono Yuri e qua su YouTube mi piace parlare di varie tematiche legate al mondo finanziario. Se sei interessato infatti ti invito subito ad iscriverti al canale per non perdere poi i prossimi futuri video e ti anticipo subito che questo è un tema molto caldo, quello della previdenza complementare che spesso mi viene richiesto e che stiamo aggiornando nel corso dei mesi. Ho fatto infatti una serie di video di dettaglio relativi ad Allianz Insieme, andando ad evidenziarne sia i pregi che i difetti, tutte le varie caratteristiche e dettagli della sua composizione che ti invito magari a recuperare, così come ti invito a recuperare anche il precedente episodio di questa mini serie affinché possiamo monitorare in maniera costante l'andamento del mio fondo pensione ma poi del vostro attraverso un'analisi personalizzata che spero che possiate riprendere sui miei ragionamenti. Parliamo subito di performance. Ci eravamo lasciati a giugno del 2021 dove il fondo aveva comunque già performato alla grande sui primi sei mesi. Vi ricordo infatti che questo fondo pensione è particolarmente aggressivo dove la quota principale maggioritaria è investita nel capitale azionario delle più grandi economie del mondo. Per questo quindi questo fondo pensione segue quello che è l'andamento delle borse mondiali e il 2021 sappiamo benissimo che è stato un anno molto favorevole proprio per i mercati finanziari. Quindi Allianz Insieme, linea dinamica azionaria, ha concluso con un rendimento del 19,4%, un risultato davvero straordinario per un fondo pensione ed è il risultato infatti più elevato degli ultimi anni di Allianz Insieme azionaria. Sembrava infatti quasi impossibile superare il rendimento del 2019, un altro anno straordinario per i mercati finanziari, ma il 2021 lo è stato altrettanto grazie anche all'aiuto delle banche centrali che hanno sempre sostenuto proprio tutte le borse mondiali. A giugno il fondo aveva fatto registrare un 11% di performance sui primi sei mesi, concludendo quindi al 19,4% a fine anno, a dicembre del 2021. Chiaramente gli indici diversificati mondiali hanno reso meglio ma non potrebbe essere altrimenti considerato che comunque si tratta di un fondo pensione dove una piccola parte è investita anche in obbligazioni e che giustamente ci sono anche delle commissioni di gestione più elevate rispetto ad un ETF globale diversificato. Per quanto riguarda la seconda parte c'è stata una leggera flessione in termini di rendimenti nella seconda metà di settembre ad inizio ottobre in linea anche con una leggera flessione degli Stati Uniti che vi ricordo essere comunque la parte principale in cui investe questo fondo pensione ed in generale una leggera flessione si è registrata nello stesso periodo anche su altri indici principali mondiali. Ma quindi il mio fondo pensione e tutti coloro che hanno questo fondo pensione, che stanno guardando questo video hanno fatto registrare una performance del 19,4% ovvero i risparmi sono aumentati del 19,4%? No, non è così perché come vi avevo spiegato nel video precedente quello che succede è che andiamo ad investire in maniera periodica i nostri risparmi o meglio l'azienda versa per noi il nostro TFR in maniera mensile oppure trimestrale, così come noi attraverso gli eventuali contributi volontari versiamo in maniera periodica all'interno del nostro fondo pensione, quindi acquistiamo quote del fondo in maniera periodica e nel momento in cui si verifica un trend rialzista andiamo ad acquistare quote a prezzi sempre maggiori quindi facendo una sorta di dollar cost averaging il nostro rendimento non sarà mai il 19,4% ma in questo caso inferiore. Passiamo adesso ad analizzare il confronto con un benchmark, un indice perché come vi ho sempre spiegato quello che è importante non è solo analizzare i risultati ma bensì anche capire come un determinato strumento si muova rispetto ad un benchmark indicato. In questo caso prenderò ad esempio SWDI, un altro ETF, uno dei più conosciuti e diffusi a riferimento in quanto investe solo nei paesi sviluppati e quello che si può vedere è che il fondo pensione in questione di Allianz ha un andamento molto molto simile a quello che è stato SWDI e quindi questo mi rincuora e mi fa ben sperare perché se anche il fondo pensione avesse reso di più magari del nostro indice selezionato ma l'andamento fosse stato discordante e diverso questo non mi sarebbe piaciuto anche a fronte di performance superiore ottenute perché questo avrebbe significato un potenziale gestione attiva da parte di un gestore dietro quel fondo cosa che però non mi piace perché io voglio che i miei risparmi per la pensione vengano investiti seguendo le attuali capitalizzazioni di mercato senza nessuna strategia attiva ma in maniera del tutto passiva e quindi il fatto che l'andamento segua esattamente SWDI chiaramente con un delta legato alle migliori performance di un ETF investito solo sulla parte azionaria mi rincuora e mi fa ben sperare che questo possa accadere anche per i prossimi anni quando si valuta uno strumento non si analizzano poi solamente le performance storiche ma oltre all'analisi di un benchmark è anche importante osservare la volatilità e altri ratio principali ricercando online si può notare come la volatilità di Allianz insieme nel 2021 sia stata pari al 5% un numero comunque molto limitato e inferiore all'ETF SWDI che ha avuto una volatilità intorno al 10% e quindi l'indice di Sharpe ovvero quell'indice che tiene in considerazione sia le performance che la volatilità quindi il rischio che ci siamo assunti per ottenere quei determinati rendimenti mostra un valore molto elevato superiore a 3% un risultato davvero straordinario considerato che SWDI ha ottenuto uno Sharpe ratio inferiore a 3% nel 2021 questa quindi l'analisi di Allianz insieme sul 2021 però se dovessi un po' adattare quello che è stato la storia del mio investimento nel fondo pensione potrei dire che history to date il rendimento delle quote che si sono rivalutate nel corso del tempo è stato pari al 26% quindi davvero un ottimo numero questo non significa che tutti i miei risparmi si sono rivalutati al 26% ma di un numero sempre inferiore per il motivo spiegato prima ma il CAGR di questo periodo è stato del 20% quindi un numero davvero straordinario ancora una volta che testimonia come questo fondo in periodi rialzisti beneficia assolutamente della sua composizione e va a cogliere maggiori rendimenti proprio dal mercato per quanto riguarda i versamenti volontari vi ricordo che sul 2021 avevo preso la decisione anche annunciata qua sul canale di versare il massimo deducibile ovvero 5.164 euro totali e 430 euro al mese su questo fondo pensione come contributo volontario che poi andrò a dedurre e finire per fin dichiarazione dei redditi nel 2022 considerato poi il TFR che l'azienda ha versato nel corso di tutti questi mesi siamo arrivati ad un totale di contributi di circa 20.000 euro che però rivalutato grazie appunto ai rendimenti ottenuti in questi anni da Allianz Insieme è arrivato ad un valore quasi prossimo ai 24.000 euro ci eravamo lasciati a giugno infatti con un montante finanziario di 17.000 euro adesso comunque aumentato nel corso del tempo le conclusioni di questo video dal punto di vista personale non possono che essere positive si sapeva infatti che Allianz Insieme è da sempre uno dei fondi pensioni più aggressivi forse il più aggressivo e non ci dobbiamo dimenticare che già in passato aveva dimostrato di ottenere dei rendimenti superiore a tutti gli altri fondi pensioni questo però non significa che dobbiamo andare alla ricerca di maggiori rendimenti perché ognuno deve investire in base al proprio profilo di rischio in particolar modo i risparmi destinati alla pensione essendo il mio profilo di rischio comunque in linea con la composizione di questo fondo pensione ritengo che i rendimenti e soprattutto i rischi assunti per questi determinati rendimenti sono ancora perfettamente in linea con il mio orizzonte temporale la giovane età e il profilo di rischio quindi non posso che essere soddisfatto di aver fatto la giusta scelta qualche anno fa con Highlands insieme linea totalmente azionaria ed aver beneficiato senza avere comunque la sfera di cristallo perché nessuno poteva saperlo a priori di quelli che sono stati forti rialzi degli ultimi anni dei mercati finanziari mi auguro che questa miniserie possa essere stata di aiuto e ci rivedremo sicuramente a giugno del 2022 per vedere come Highlands insieme avrà reagito ai prossimi scenari macroeconomici verificatisi a livello mondiale e se il video ti è piaciuto ti invito solo a lasciare un bel mi piace qua sotto perché questo ci aiuterà ad emergere all'interno dell'algoritmo di YouTube se hai qualsiasi domanda io ti aspetto nella sezione dei commenti ciao a presto ciao a presto